Io sono Palusieri Giuseppe, nato a Tesero nel 1947 e la mia attività l'ho iniziata appena finito le scuole, cioè io avevo 14 anni, il mio maestro elementare aveva parlato con un signore che faceva lo scultore e ha detto questo ragazzo ha passione del disegno, è bravo. Allora questo imprenditore è venuto da me e ha detto ragazzo vuoi venire nel mio laboratorio? Allora io ho 15 anni, ho finito le scuole, sono stato là da lui, ho iniziato così insomma, il lavoro mi piaceva tanto e l'unica cosa era che in quel periodo, in quegli anni, parliamo di 60 anni fa, la mia famiglia aveva bisogno anche di aiuto finanziario e l'estate per gli anni passati dietro, l'estate io andavo in laboratori, si andava così a aiutare i contadini, qua nella nostra valle c'era lavoro tanto degli imballaggi, a fare imballaggi per la frutta e l'estate tanti ragazzi andavano là a lavorare e prendevano qualcosa e io quell'estate là sono andato in suo laboratorio di questo scultore. Alla fine del primo mese mi aspettavo che mi desse qualcosa, sapendo il passato che io lavoravo in quei laboratori degli imballaggi, che mi desse qualcosa. So che era sabato e mi ha detto, così in dialetto, ciao Beppino allora guarda ti do 100 lire così domenica puoi andare al cinema. Era sabato. Io sono andato a casa e mi sono messo a piangere. Allora i miei genitori mi hanno chiesto il perché mi commuovo. Mi ha detto, guarda Beppino, se il lavoro ti piace non pensare al lato finanziario. insomma, sono stato contento, però c'erano i miei amici che loro lavoravano presso, non so, un muratorio in falenameria e prendevano paga di apprendista. Allora il papà è andato da questo scultore e ha detto, beh, almeno come apprendista lo devi assumere, no? Eh va insomma, però alla fine del mese era già qualcosa, almeno il pane per la mia famiglia, la famiglia dei miei genitori serviva insomma. E così ho iniziato e sono restato là cinque anni. Io sono stato molto fortunato perché ero il primo apprendista che aveva questo scultore. E allora gioco forza mi doveva insegnare tutto, se voleva l'aiuto, il mio aiuto, no? E da quella parte là sono stato veramente fortunato. Mi aveva insegnato a scolpire, a fare, allora si faceva anche tanta pirografia che era un'incisione a fuoco e poi anche pittura e dipingevo. E io sono stato là da lui per cinque anni e poi dopo di me sono venuti altri apprendisti, no? Però quegli apprendisti li teneva un po' da parte rispetto a me, no? Addirittura alle volte mi chiudeva in un locale perché facevo la pittura antichizzata che era una tecnica molto particolare, no? Che noi si andava in Val Gardena a copiare un po' così a vedere se si riesce a trovare i trucchi, come fare a fare tutte le crepe sulle statue delle madonne in gotico. Io ho imparato a forza di provare e provare siamo riusciti a farlo, io e il mio datore di lavoro. Quando io facevo la pittura antichizzata mi chiudeva in un locale perché gli altri apprendisti o anche se persone venivano in laboratorio non vedessero come si faceva per dire i segreti che erano allora anche nelle lavorazioni, no? E l'ha fatto i cinque anni, io a diciannove anni sono stato chiamato sotto le armi, allora ho dovuto andare militare, a fare militare io a quegli anni facevo sport, siavo, sono andato a fare i quattordici mesi di militare a Courmayeur in Val d'Aosta e durante il periodo di Naya lavoravo anche in caserma io perché eravamo in una casermetta che eravamo in una decina di militari, noi si faceva sport e basta, ho lavorato là. Quando sono tornato a casa il mio datore di lavoro mi ha chiesto vieni ancora da me, no? E io gli ho detto sì, sì che vengo però a certe condizioni, io quando sono andato via militare prendevo 100 lire all'ora dopo cinque anni e ci ho detto beh guarda le paghe sono quelle, se mi dai tanto ci vengo, altrimenti eh ma no ma è troppo, io non ho neanche ripetuto la domanda, ha detto beh io resto a casa e mi sono messo a lavorare per conto proprio, ho fatto partita IVA e mi sono iscritto agli artigiani, a partita IVA allora non c'era, mi sono iscritto agli artigiani e io avevo già dei clienti prima che mi conoscevano siccome che io lavoravo anche a casa dopo giornata diciamo, no? La sera avevo già i clienti e mi sono messo a lavorare e ho lavorato fino a... fino adesso lavoro ancora insomma, no? Stamattina. Stamattina, esatto, no? E poi mi sono sposato, ho avuto i figli, i figli venivano sempre nel mio laboratorio, no? Erano sempre partecipi perché mi aiutavano già da ragazzi, da bambini, noi ho tre figli e l'Igor dopo vedevo che aveva un po' di passione, no? E gli ho detto a lui, guarda tu devi andare a scuola però, no? E a quegli anni è andato a Pozza, alle scuoli, scuola a Pozza però era una scuola che non lo soddisfava perché lavoravano poco. Allora a quegli anni là ho provato a iscriverlo in Val Gardena perché allora in Gardena non accettavano gli studenti di fuori nella scuola di scultura, proprio non li accettavano quelli fuori provincia e noi essendo provincia di Trento poi sono riuscito a, in qualche maniera, a iscriverlo e poi lui ha iniziato là. Ma prego, dimmi un po' com'è andata, no? Perché ha lavorato, è stato bravo insomma perché anche da parte di mia moglie sono stati anche dei sacrifici perché a mantenere un ragazzo, uno, e poi ha seguito anche la sorella, era una certa spesa perché devono restare là tutta la settimana, andavano via la domenica sera e ritornavano il sabato insomma, no? Però, però vedevo che piaceva e allora i sacrifici si facevano anche volentieri, no? E così dopo è andato là e ha iniziato a studiare e lavorare e siccome che diliti, mi presento, io sono Igor, il terzo figlio, il figlio più piccolo, come detto, beh ormai il papà ha detto tutto quasi, mi ha fatto la scuola a Pozza, a Pozza di Fassa e tre anni perché erano obbligatori per iscriversi appunto a questa scuola in Val Gardena, a Selva e siamo entrati in tre della Val di Fiemme e come diceva il papà non eravamo ben visti, tra virgolette, perché quelli che venivano da fuori provincia erano visti come dei concorrenti, volevano avere l'esclusiva loro e poi non per parlare male perché dopo io mi sono trovato bene con la Val Gardena e con i gardineri, però erano persone abbastanza po' sulle loro, no? E siamo entrati in scuola, facciamo otto ore di lavoro al giorno, quindi si lavorava e per fortuna si studiava poco, per me almeno, e facevamo scultura, modellazione e disegno e la manualità nel nostro lavoro è fondamentale, è là che impari a lavorare, diciamo. Finalmente sono entrato, diciamo, eravamo soci, papà e mia sorella che dipinge ancora i nostri lavori. No, anche perché a dire la verità il mio lavoro non è un lavoro, è una passione e io se non vado in laboratorio tutti i giorni, io sto male, mi manca proprio qualcosa, ecco, no? Allora da qua si vede che il lavoro, quando è fatto, qualsiasi lavoro, è fatto con passione, la fatica non si sente e neanche i sacrifici non si pesano, no? Come detto, io ho imparato tantissimo anche da papà, ero fin da piccolo ero fra i piedi, fra i piedi di quando lavorava e tutti, diciamo, abbiamo uno stile un po' diverso, anche se facciamo cose abbastanza simili, io mi sono più specializzato un po' in altre cose adesso, ma perché i tempi sono cambiati e con l'arrivo dei social è cambiato il modo di lavorare e anche di farsi conoscere, perché una volta non era così facile. Io dico sempre, se non avessi avuto il papà che mi ha spianato la strada, iniziare adesso da zero a fare lo scultore sarebbe dura, veramente dura, però vediamo che ce la facciamo, ce l'ho fatta. Sì, sì, vedete, poi è entrata mia figlia, che ho una figlia che dipinge, che mi ha dato una grossa mano dipingendo proprio lei lavori e allora abbiamo incontrato uno stile un po' particolare e sinceramente è molto apprezzato proprio in valle là, che ovviamente dopo loro acquistano da noi i lavori e li marchiano con il loro marchio, ma questo è un compromesso che bisogna accettare se si vuole restare su quel mercato. Lui adesso ha iniziato un tipo di lavorazione che è molto personalizzata, proprio là non ci si scappa, ecco. Voglio dire, poi fa tanti lavori su ordinazione, come trofei e cose così, ha avuto un bel riscontro, insomma. Ecco, nella nostra valle, in Val di Fiemme, è entrata la scultura, è entrata come hobby. La Val di Fiemme era basata tanto su, sì, un po' di artigianato, tanta agricoltura e ecco che da là è partito proprio anche lo spunto della scultura, perché durante l'inverno i contadini che, insomma, fuori c'erano i boscaioli, i carettieri che avevano da fare, però i contadini lavorato in stalla, ecco che erano liberi. E allora tanti, tanti signori di allora si mettevano là, con la schiena sulla stufa e iniziavano a lavorare, prendevano il legno, cirmolo, usavano il cirmolo che è un legno di qua della nostra valle, proprio particolare anche per scolpire, e tanti facevano il presepio. Allora facevano le statuine e anche adesso se ci sono delle mostre, delle manifestazioni, si vedono ancora presepi fatti 500 anni fa, insomma, e avevano degli attrezzi molto particolari. per dire, le dico una curiosità, io so, avevo uno zio, ecco, da là magari è venuta un po' la mia passione, che lavorava tanto e era bravo, perché vedendo i lavori di quegli anni là, era bravo. si facevano, per dire, gli scalpelli, coi ferri delle ombrelle, si prendeva, che era, però, quelle fatte a U, piccoline, che ci sono le stecche, le facevano con quelle, o prendevano dei, proprio, erano cose molto, molto originali e particolari, no? E ecco, è là nata la tradizione della scultura in Val di Fiemme, perché in Val di Fiemme ce ne sono parecchi scultori, insomma, no? Però si può dire che in tutte le famiglie c'era uno scultore, specialmente in certi periodi dell'anno, ecco, si mettevano là e facevano le pecorelle, il pastore e così, e si passavano il tempo, no? Dopo si è evoluto, il lavoro con l'entrata del turismo in valle, ecco che là allora si facevano le cose proprio particolari, un po' proprio caratteristiche dei paesi nostri e così è nato. Iniziava il primo turismo e la gente che veniva dalle città vedeva queste cose fatte in legno, che per loro erano cose nuove, e da là è iniziato l'artigianato, come si chiama adesso il vero artigianato, con questi piccoli negozi di sculture, di artigianato, e l'evoluzione adesso è nel nostro campo, nell'ambito di lavoro fatto esclusivamente a mano è cambiato poco, quasi niente, però da una parte purtroppo è intervenuta le macchine, le macchine si chiamano macchine a controllo numerico che fanno le statuine in serie e l'artigianato è andato un po' a perdersi, ma d'altronde per i turisti, non tutti i turisti possono prendere una statua che costa tot o permettersi un souvenir che costa tanto, ma una cosa fatta esclusivamente a mano, quindi prendono souvenir sempre in legno, ma fatto con le macchine, e quella è l'evoluzione dei tempi moderni, l'artigianato secondo me, come lo facciamo noi, andrà a parerci. Lui è protetto dalla provincia, ma non dalla nostra provincia di Trento, che io mi son battuto anni e anni perché facessero un marchio di garanzia, noi qua in Val di Fieme dobbiamo andare in Val Gardena, a Ortisei, a farci marchiare i lavori, là si, ti mettono un marchio, che va messo là, è un marchio piombato e poi devi andare col pezzo di legno e ti mettono il marchio, poi fai il lavoro e devi ritornare là e vedono, sì, è il lavoro che mi hai portato, c'è il marchio e ti danno il certificato di garanzia, ecco che questo ti salva, altrimenti sarebbe dura la vita e per fortuna, come dice, ci sono ancora delle persone, dei turisti che apprezzano questo lavoro, l'apprezzano, certo che uno è acquistare un articolo fatto a macchina, che ne fai centinaia o uno fatto a mano, che è un pezzo unico, anche se fai il medesimo lavoro due o tre o dieci volte, non riuscirà mai uguale, perché è fatto a mano? Da quando sono entrato io, le cose sono cambiate, le committenze, io ho varie committenze adesso, che ne so, enti pubblici, noi abbiamo le società sportive, noi abbiamo il tour deschi che organizzano gare importanti, anche mondiali, il comune che ha da fare un premio di rappresentanza, i locali che hanno da fare un pensiero per un matrimonio, una crisima, una comunione, in Val di Fiemme si cerca appunto, o abbiamo cercato di far capire che abbiamo la materia prima, abbiamo tutto, il legno, che il legno diciamo è come il marmo a Carola, è una cosa che ci caratteristica, è caratteristica di qua, no? E per fortuna è un po' di anni, specialmente da quando hai iniziato te, che l'han capito, che l'han capito anche gli enti pubblici, ma tante anche società, io so che prende gli ordini da tutta Italia, però vogliono il legno, il legno. Perché il calore che dà il legno. Sì, poi non so, anche gli ultimi avvenimenti un po' tragici della valle che è successo qua, ha portato a amare di più il legno, perché una volta qua si faceva tutto il legno, perché non c'era altro materiale, no? Il legno, vedo anche adesso a parlare con i signori così, che vengono da fuori, piace, piace, è inutile, non so, ma anche addirittura amano riscaldarsi con il legno, che se parliamo di una trentina d'anni fa, anche qua sostituivano tutte le stufe a legna, con i termosifoni o con il gas, adesso non tornano indietro. Io vedo in case che hanno buttato fuori la stufa a ole, la riprendono. Perché? Perché è più bello, è bello, è un caldo diverso, ma il legno, il caldo del legno è anche il mobile, un dei i nostri lavori. Beh, noi principalmente i nostri lavori l'ottanta per cento lo facciamo in legno di tiglio. Perché? Perché facendo lavori un po', diciamo, molto fragili o con, che ne so, faccio un esempio, un animale, un cervo, le corna del cervo sono molto fragili e la tipologia di legno del tiglio è un legno che si presta molto. Perché? Perché è una vena talmente compatta e allo stesso tempo morbida nel lavorare, ma compatta nel fare particolari. Lavoriamo anche con il legno di cirmolo, ultimamente abbastanza frequente, ma però fare lavori con particolari molto minimali è un po' pericoloso perché scheggia e salta come il ghiaccio, diciamo. Sì, perché c'è una veniatura tra una crescita e l'altra, c'è una crescita irregolare e è molto fragile. Però vedi che ultimamente i clienti, le persone, apprestano il cirmolo, però naturale, lasciando naturale. Invece il tiglio noi si colora, al 90% viene colorato. Diciamo che un lavoro in cirmolo non lo coloriamo mai, ci rifiutiamo anche di colorarlo, perché il profumo del cirmolo è inutile coprirlo con una vernice, anche se è una vernice all'acqua, è un controsenso secondo noi. Non so, mi avete detto che avete parlato con un volcaiolo, non so se vi ha parlato del larga. Ecco, il larga è un'essenza del legno di larice. Ci sono anche altre essenze, c'è del... che si chiamano? L'avesso, che fanno addirittura dei medicinali della bette bianco. Il larice, io mi ricordo da bambino, no? Ma ci sono ancora i larici in giro, qua. C'era un signore, da tesero, che andava a raccogliere la resina del larice, no? Sarebbe il larga. E era una cosa che, per dire, se ti mettevi una spina in una mano o da qualche parte, mettevi un po' di questa resina sulla ferita e il giorno dopo usciva la spina da sola. E questa la ricavavano forando larici maturi, rosti, foravano il larice alla base e restava... e da questo buco, da questo foro usciva la resina. E questa veniva raccolta... Senza far morire la pianta. No, no, la pianta non soffriva, non soffriva, perché dopo questo buco veniva tappato e ogni anno, in una data stagione, andavano con un attrezzo particolare, andavano dentro, ma era un foro di due centimetri, tre centimetri in massimo, no? Andavano dentro con questo ferro e lievavano la resina e poi quella veniva pulita e era il larga, cosiddetto, qua da noi, no? Perché dopo, sì, dopo altre essenze si fanno con i dutti de branco, che sarebbe il pino mungo, anche, no? Anche da quello ricavano lo siroppo, fanno un certo procedimento, devono essere levati in una certa stagione, ma queste sono tutte tradizioni che erano qua, si conoscevano, si passavano fra gli abitanti della valle, no? E' così. Per dire, questo miele, noi diciamo di miele, anche di Cirmolo, di Sambuco e così, si ricavavano e si mettevano via per l'inverno, per la tosse, per il raffreddore o per il mal di schiena, e così. Noi non siamo stati colpiti, da quel punto di vista della tipologia di legno che usiamo noi, perché il Cirmolo... Da cosa, scusa? Dall'abbattimento di tutte le piante che si è cambiato, è cambiato il prezzo, comunque. Sì, vaio avevano... Esatto, da parte da valle. La bette, siccome che noi non si usa, allora non ci ha colpito direttamente, no? Il Cirmolo, invece il Tiglio... Sì, ce ne sono anche qua tili, però vengono fuori. Noi lo prendiamo tutto dall'est, il Tiglio, ma c'è un motivo. Infatti avevamo provato a prendere Tigli nostrani. Siccome che la pianta di Tiglio cresce tante volte lungo le sponde dei fiumi... o in terreni sabbiosi, ci siamo accorti che lavorandolo i nostri attrezzi, le sgorbie, perdevano il filo subito, praticamente non tagliavano, dopo poco non tagliavano. Non riuscivamo a capire il motivo. Poi ci siamo venuti sopra, la pianta quando cresce... Assorbe con la linfa... Il pulviscolo che crea una cascata o il fiume raccoglie questa sabbia, questo limo, e lo imprigiona dentro di sé e ci rovina gli scalpelli. Quindi abbiamo dovuto abbandonare questo legno nostrano, il Tiglio parlo, e lo prendiamo tutto dall'est, che là questo problema non c'è. Il cirmolo invece è, diciamo, come cercare le pepite ormai, perché il nostro cirmolo che usiamo noi deve essere il più bello possibile, quindi... Senza nodi, con pochi nodi. E anche il prezzo, logicamente, deve essere il più alto possibile. No, non deve essere così. Ma giustamente, perché il cirmolo è una pianta, non diciamo rara, ma insomma, anche come abbattimento da parte della forestale, è molto, molto ridotto, no? Perché anche se noi andiamo qua in segheria della nostra comunità, insomma, si fa fatica, si fa fatica a trovare cirmolo bello per noi, no? No, il bosco, per me è come andare in chiesa. Io da sposato, cioè, sono andato a caccia fino a pochi anni fa, e poi, visto com'è adesso, la caccia non mi piace più. E per fortuna c'era poca gente, adesso è cambiata. Però vedo, anche lui, vedo che quelli che vanno in montagna o hanno il frequenzimetro o il tempo, devono sempre andare di corsa. E invece bisogna andare con calma, fermarsi, guardare. Il bosco è, come dico, una cosa... Diciamo che noi, anche andando nel bosco, abbiamo un occhio, non clinico, ma vediamo, è anche ispirazione di lavoro. Oppure prendiamo radici o spunti per i nostri lavori che poi vendiamo. Quindi, per noi il bosco non è un sentiero, che bell'albero. Noi, in un tronco, in una radice, già vediamo quello che può servirci per il nostro lavoro, per, diciamo, il nostro lavoro. Io ho passato, anche quando ero in crisi, crisi magari col lavoro, anche con la famiglia, perché no? Io andavo in bosco. E allora proprio mi riprendevo e mi passava tutto e andavo a far pace. E se avevo litigato con la moglie... Questo è il bosco. Bisogna proprio sentirlo e non aver fretta a girare nel bosco, andare pian piano e là si vedono tante cose. Beh, per la Val di Fieme è sempre stato, diciamo, il punto principale dell'attività. E fonte di guadagno. E fonte di guadagno, soprattutto fonte di guadagno, di lavoro, di conseguenza. E bisogna, bisogna insegnare anche ai giovani così, ai ragazzi, ai bambini, di apprezzarla e di pensare che non è detto che non abbiamo ancora bisogno del bosco come avevamo bisogno 50 anni fa, no? Perché adesso ho sentito anche che dopo vaia, sì, va bene, sono caduti tanti alberi, ma quelli si possono rimpiantare. Ne abbiamo ancora tantissimi perché non è che ci manchino. e adesso anche c'è il beckerlo, noi diciamo il bostrico, il beckerlo. C'è sempre stato però, perché io mi ricordo quando ero bambino da casa mia io vedevo le cime delle montagne proprio in primavera che andavano i boscaioli e abbattevano queste piante secche e le bruciavano sul posto, le bruciavano proprio, no? Adesso le recuperano, anche perché ci sono quantitativi enormi, no? Allora magari erano poche centinaia di metri cubi. E come vuol dire, il bosco adesso in certi posti manca anche per le persone nel senso che le valanghe, una volta gli alberi, cioè per dire in Val di Pampeago o anche vediamo qua dentro a Predazzo, così sopra Predazzo, che lavori hanno dovuto fare? Perché? Perché manca il bosco. Hanno dovuto fare delle spese e dei lavori enormi per trattenere la neve perché se no ci va il rischio anche di essere travolti da valanghe e così. Sì, il bosco diciamo è per noi anche, a parte è una fonte di vita e nel bosco ci sono sia, a parte gli animali, sia funghi, sia... è veramente un parco giochi può essere, io lo considererei un parco giochi. Qua c'è una bella tradizione delle scuole che a fine delle scuole, quest'anno non ho sentito ancora i miei nipoti dirlo, ma vanno a piantare alla festa degli alberi, no? Vanno le scuole a piantare un alberello per uno, quello è... ma non è soltanto piantarlo e poi... però pensarci a quello che deve nascere da quell'albero, allora arriva, che ci purifica l'aria, che col crescere ci protegge dal tempo, dall'acqua, dalle valanghe, dalle frane e poi... che ci serve, che ci serve per vivere, per riscaldarsi, per farsi i mobili e tutto. E allora anche quello, e anche gli enti, gli enti della valle, così tipo la comunità, no? Che è il nostro baluardo della valle, dovrebbe... dovrebbe coinvolgere di più... non le persone della nostra età, perché quelle... non dico che sono quasi perse, ma insomma... uno che vuole iniziare a fare lo scultore, come detto, tanta passione e cercare di trovarsi il... come abbiamo fatto, che ha fatto il papà, come io un po' preso da lui e un po' più cambiato... cercare il tuo stile, la tua dimensione, chiamiamola così... cercare di qualcosa che... che ti differenzi dagli altri. Grazie a tutti.